GF VIP 7, Antonella Fiordelisi si sfoga con Edoardo Donnamaria, sei pronto per una relazione, ho anche pensato di. Ieri sera, in cortile, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno fatto il punto sulla loro situazione. I due concorrenti del GF VIP 7, avevano deciso di interrompere la loro relazione dopo continui alti e bassi. Antonella si è confrontata con Edoardo, esprimendo tutti i suoi pensieri. Sicuramente non sei pronto per una relazione. Hai 30 anni ma è come se ne avessi 24. Tra 5 anni ti potrai fidanzate con una donna. Sicuramente tutti gli errori che hai fatto in passato è perché ti sei fatto condizionare dagli amici. Sono sicura di questo. L'hai fatto anche qua. A me piacevi perché non ti facevi condizionare da nessuno. Ridevamo scherzavamo. Questa cosa non c'è più. Si dice che l'amore vince su tutto. Evidentemente da parte tua non era amore. Sono stati comunque mesi belli. Il 2023 sarà un'altra pagina per me. Pensa ho anche pensato di nominarti per non vederti mai più ma non lo farei mai. Edoardo ha ascoltato in silenzio le parole della ragazza, per poi alzarsi e abbracciarla. Successivamente, Antonella è stata raggiunta da Dana Saber che l'ha confortata. Ti ha abbracciato, davvero. Questa è bellissima come cosa. Io ci ho parlato, l'ho fatto riflettere. Io ci ho parlato, l'ho fatto riflettere. E ora dicked Grazie.